Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Antonella Clerici si è mostrata davvero serena accanto alla famiglia durante le vacanze estive Avete visto che bel ragazzo è il figlio del compagno? La conduttrice è tornata con la nuova stagione del programma E' sempre mezzogiorno È con grande piacere che affermiamo che Antonella dà l'idea di essere proprio appagata e senza altro se lo merita Antonella Clerici ha tenuto compagnia agli italiani nella fascia del mezzogiorno per moltissimi anni con la prova del poco Il format l'ha consacrata, tra le donne più amate dello spettacolo e si è guadagnata la stima dei telespettatori La sua relazione con Vittorio va a gonfie vele non lo nasconde anzi si gode il bel momento Avete visto che bel ragazzo il figlio di lui? Antonella Clerici è il figlio del compagno Antonella Clerici è da sempre simbolo di allegria e semplicità Nel corso della sua brillante carriera ha dimostrato versatilità ed è stata al timone di programmi del calibro di Sanremo La passione per la cucina e l'impegno che mette in tutto ciò che fa l'hanno portata ad essere una vera star La sua vita privata ha visto grandi amori che però non hanno portato alla stabilità desiderata Quando ha sposato Eddie si è coronato il suo sogno più grande ovvero diventare mamma La splendida Maelle è la gioia più grande della vita di Antonella Clerici Dopo la separazione da Eddie non sono stati momenti semplici per la conduttrice Il sorriso sul suo volto lo ha riportato Vittorio Garrone nel 2016 L'imprenditore e la presentatrice formano una splendida coppia e sono davvero innamoratissimi Quest'estate abbiamo avuto modo di vederli nei momenti più significativi della loro estate d'amore Antonella Clerici e Garrone si sono salutati ma soltanto perché lui ha organizzato un viaggio con il figlio avuto della relazione precedente Voi avete visto come è bello? Il giovane è uno dei tre figli di Vittorio Il padre ha sempre voluto accanto i suoi figli anche se con una nuova compagna Ha cercato di unire il più possibile, vecchi e nuovi affetti, creando una meravigliosa famiglia allargata Luca Garrone è partito insieme al padre che ha condiviso con i fan il momento e la bellezza del giovane è saltata subito agli occhi del web Sguardo felice e viso angelico che hanno attirato numerosi commenti Auguriamo a Vittorio e Luca Garrone di condividere momenti speciali assieme E vogliamo augurare una splendida stagione televisiva ad Antonella Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video